Espellere il muco, rimedi a base di erbe medicinali. Sapevate che lo zenzero, grazie ai suoi composti, può essere un grande alleato per liberare i bronchi ed eliminare le tossine e le secrezioni. In inverno è facile essere raffreddati e respirare male. Oggi vi presentiamo alcuni rimedi a base di erbe medicinali per espellere il muco. Il muco è una secrezione appiccicosa che proviene dalle vie respiratorie. Il suo principale fine è quello di mantenere lubrificata la zona, per catturare e facilitare l'espulsione di qualsiasi agente esterno contaminante o infettivo. Si tratta di un fluido composto da glicoproteine, anticorpi e altre sostanze che svolgono un ruolo chiave per la salute immunitaria. Sebbene sia necessario, alcune infezioni ne causano una produzione eccessiva, generando congestione e altri sintomi fastidiosi. Per fortuna, oltre ai trattamenti convenzionali che favoriscono l'espettorazione, esistono varie soluzioni naturali che possono aiutare a ridurlo. Tra le varie opzioni, troviamo alcuni rimedi a base di erbe medicinali che, grazie alle loro proprietà, contribuiscono a espellere il muco dai polmoni. Li conoscete? Vi presentiamo i migliori 5. Erbe medicinali per espellere il muco 1. Eucalipto Le foglie di eucalipto contengono oli essenziali, antiossidanti e composti antinfiammatori che riducono l'irritazione causata dall'eccesso di muco. La loro concentrazione di sostanze volatili aiuta a liberare il naso e le vie respiratorie, eliminando le secrezioni che ostruiscono il normale passaggio dell'aria. Ingredienti 3 cucchiai di foglie di eucalipto, 30 g, 2 tazze d'acqua, 500 ml, preparazione Mettete le foglie di eucalipto in una pentola con acqua e fatela bollire per circa 5 minuti. Coprite la bevanda affinché il vapore non fuoriesca. Modo d'uso Togliete il coperchio e avvicinate la testa per inalare i vapori. Copritevi con un asciugamano per ottenere risultati più efficaci. Realizzate il trattamento per 5 o 10 minuti e riposate. Ripetetelo il giorno dopo se lo considerate necessario. 2. Origano Le foglie di origano contengono oli essenziali e sostanze antibiotiche che combattono le infezioni che causano una produzione eccessiva di muco. Con il suo infuso riusciamo a espellere il muco e a ridurre la congestione. Ingredienti 1 cucchiaio di origano, 5 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml, preparazione Aggiungete l'origano in una tazza d'acqua bollente e poi copritela. Trascorsi 10 minuti, filtrate la bevanda e bevetella. Modalità di consumo Bevete 2 o 3 tazze di infuso al giorno fino a liberare le vie respiratorie. 3. Timo Le proprietà medicinali del timo sono state da sempre utilizzate per accelerare la guarigione dai processi catarrali e influenzali. Offre composti antisettici, espettoranti e antispasmodici che riducono la tosse e l'irritazione relazionata con l'eccesso di muco. Ingredienti 1 barra 2 cucchiaio di timo, 5 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 g, preparazione Mettete il timo in una tazza d'acqua e fate bollire per 5 minuti. Coprite la bevanda e lasciatela riposare per altri 10 minuti. Una volta pronta, filtratela e addolcitela con un cucchiaio di miele. Modalità di consumo Assumete due tazze di infuso di timo al giorno per circa 3 o 5 giorni. 4. Zenzero Il gingerolo, composto attivo dello zenzero, agisce come antibatterico, espettorante e antinfiammatorio, donando sollievo dalle infezioni respiratorie. Questo composto, insieme agli antiossidanti e oli dello zenzero, libera i bronchi e aiuta a espellere il muco e a eliminare le tossine. Ingredienti ½ cucchiaio di zenzero grattugiato, 5 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 g, preparazione Grattugiate lo zenzero fino a ottenerne l'equivalente di mezzo cucchiaio e, subito dopo, versatelo in una tazza con acqua bollente. Coprite l'infuso e fatelo risposare per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, filtrate la bevanda e addolcitela con miele. Modalità di consumo ingerite fino a 3 tazze di infuso di zenzero al giorno. Assumetelo per 2 o 3 giorni fino a ridurre la produzione di muco. 5. Alloro Le foglie di alloro sono ricche di componenti naturali che fanno bene ai polmoni. Sono consigliate per facilitare l'espettorazione e alleviare la congestione del torace. Ingredienti 1 cucchiaio di foglie di alloro, 10 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml, preparazione Aggiungete le foglie di alloro in una tazza di acqua bollente e fate riposare per circa 10 minuti. Filtrate la bevanda e poi consumatela. Modalità di consumo Bevete fino a 2 tazze di infuso di foglie di alloro al giorno. In alternativa potete immergere un panno pulito nella bevanda e applicarlo come impacco sul petto. Ripetete il trattamento fino ad alleviare la congestione e l'eccesso di muco. Ricordate che, oltre a ricorrere a tale rimedio, dovete incrementare il consumo di acqua e liquidi sani per promuovere la depurazione delle vie respiratorie. Durante tutto il tempo in cui dura la congestione, dovete tenervi alla larga da sostanze chimiche irritanti, polvere e altre sostanze volatili che possono peggiorare la situazione.